Se vi piacciono gli anelli di Saturno beh ritenetevi fortunati che potete vederli Infatti pian pianino stanno scomparendo Il continuo bombardamento di raggi solari e il forte campo gravitazionale esercitato da Saturno Stanno trascinando il ghiaccio degli anelli verso la superficie del pianeta Che si sciolgono e si trasformano in acqua Ma ci vorrà ancora un po' prima che spariscono del tutto Grazie alla sonda Cassini infatti si è scoperto che gli anelli dovrebbero durare circa altri 100 milioni di anni Meno male Ciao